Benvenuti a tutti, si è appena conclusa la giornata nazionale del terapista occupazionale. Oggi è il ventennale della nostra professione da quando è stato emanato il decreto ministeriale 136 del 1997. È stata una bellissima giornata, tante bellissime relazioni. È stata una giornata utile anche per confermare le collaborazioni che già abbiamo, e anche quella con la Simfer, che questo è stato uno degli eventi che ci vedranno uniti, ma sicuramente sarà uno tra tanti che continueremo a fare con enorme entusiasmo. Io ringrazio particolarmente il dottor Massucci e il dottor Boldrini, i quali hanno collaborato con me e con il responsabile scientifico in alcuni passaggi del programma. Sono stati attivi in questa giornata e ci hanno dato il loro patrocinio. Grazie.